benvenuti un'altra puntata di impazza la notizia ciao giulia oggi con questi cuoricini prometti insomma notizie belle non sei al velino come al solito è tutta l'apparenza insomma le notizie da tutto il mondo veramente io ho sbriciato la prima sinceramente sulla prima me ne vado è dopo la prima prima venerà dove si sono le cose allora partiamo subito con la prima notizia bomba si salerno violenta rissa sfiorata tra due mamme davanti ad una scuola ma immagina per chi avesse delle due il lato b più bello insomma una delle due addirittura si è abbassato i pantaloni per far vedere appunto per dar dimostrazione di questo lato b orgogliosa che popò di roba ed è stato necessario l'intervento degli altri genitori delle altre banca di genitori madri ma pensa se viene fuori un orgio di sederi all'aperto a mostrare le terga ma no ma non si può insomma le hanno sono riuscite a dividerle insomma altro che a suon di schiaffi a suon di ci si come gran cafonate io ti lascio vincere a mani basse tu sicuramente il fondosiera ce l'hai meglio di me non facciamo una prova non facciamo una dimostrazione vince giulia 10 a 0 ma che questi qui davanti alla scuola mentre aspettano i bambini fare questa gara di chi ce l'ha più bello il sedere succedono anche queste cose chi è che l'ha più bello delle due chi lo sa io non l'ho visto è stata interrotta la gara sospesa la partita per impraticabilità del campo esatto la prossima puntata questa un'altra notizia che arriva sempre dall'italia in Italia questo autunno sta portando un po' salgono su un taxi a Milano ma credono di essere a Padova e va bene solo dialogando con il tassista si accorgono dell'errore insomma le due donne probabilmente hanno perso il treno giusto ma anche il senso dell'orientamento magari un google maps del cervello che può servire cioè tu sali sul taxi a Milano che già capisci che non è Padova perché già che vedi Duomo già che vedi la stazione centrale già che vedi Milano è Milano il traffico non è quello di Padova tu dici Prato della Valle che è una zona di Padova il centro storico dice no guardi qui non c'è Piazza Duomo Castello Fortesco ti può stare forse non conosce poi dipende se erano straniere queste turiste chi lo sa che poi insomma Milano Padova ci sono 290 chilometri non è che dici sono scesa la stazione dopo no no ci sono proprio lasciando andare in un viaggio infinito va bene insomma può succedere anche tutto ma insomma e va bene se sei un po' hanno perso l'altro bisogno diciamo che si sono addormentati loro sono saliti a Venezia si sono addormentati a Mestre che hanno fermato dopo e si sono svegliati a Milano oh che bella Padova poi vedono i piccioni che ci sono a Milano classici ma c'è qualcosa di strano qui esatto va bene questa notizia invece arriva dalla Thailandia ci allontaniamo un po' si siede sul WC in predato un attacco intestinale ma dal water esce un serpente che gli pizzica i gioielli di famiglia mamma mia aiaiaiaia insomma Ricchi ad occhio e croce se gli piacciono così tanto i gioielli sarà stato sicuramente un pitone reale guarda io ho sempre in piedi io ho sempre in piedi io sto in piedi io sto in piedi però aspetta io ho letto bene tutta la notizia e non era però velenoso sinceramente ma però fa male il pitone non è il pitone che poi infatti si è incavolato e ha cominciato a prendere abbastonata il suo pitone ho male io adesso pensando al male che è vero che gli sarà passata no? è bene credo sicuro gli sono girati ma poi poi mi ha staccato il pitone dai gioielli lo so gli avrei dato un corso così ma poi il pitone era tratto dai gioielli è sì perché è un pitone reale era un pitone gioielliere allora è un pitone reale che ama i gioielli eccetera va bene insomma per oggi direi che può beh anche perché sinceramente adesso mettiamo al sicuro i gioielli di famiglia questo ci vuole soprattutto un consiglio di interessatori guardate bene nel bate prima di sedervi io scusate io dovrei andare però vado di fronte vado in piedi o se no la cosa proprio migliore è andare in una turca con una turca risolta tutti i tuoi e chi ti dice che dalla turca non riesca la via non siamo più sicuro da nessuna parte non c'è più sicuro l'unica è andare ma neanche non lo so tenetevi tutto dentro va bene noi siamo in chiusura alla prossima alla prossima con altre i pazze pazze vi avevo detto che questi cuoricidi erano ingannevoli promettevano cose notizie belle invece abbiamo tolato cioè quella di Salerno penso che sia il massimo sempre peggio la gara dei più bei sederi delle mamme davanti alla scuola penso che sia potrebbero fare un cuore ah no ma c'è già il lato B più bello ma chiamiamole queste qui la prossima volta le vogliamo avere in diretto ciao 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 ciao